Siglato il protocollo d'intesa per lo sviluppo del distretto rurale della Toscana del Sud, di cui fanno parte 14 comuni grossetani, 17 della provincia di Siena, 2 aretini, 1 livornese, 3 unioni dei comuni dell'area grossetana e la provincia di Grosseto. Con questo protocollo la Regione ha formalizzato il sostegno alla partecipazione del distretto al bando del Ministero delle Politiche Agricole, sostegno che prevede per la Regione anche un impegno economico di 15 milioni di euro. Una firma per dare una spinta al futuro e all'agricoltura della Toscana del Sud. Questo distretto agricolo avrà un grande futuro perché il marchio della Toscana vince su tutti gli altri. Oggi i prodotti sono importanti perché stanno dentro un contesto che è un contesto agricolo, paesaggistico, culturale, un contesto di qualità. La Toscana ha queste caratteristiche, le ha tutte. Il distretto rurale della Toscana del Sud nasce con l'obiettivo di rafforzare il marchio toscano dell'agroalimentare attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze. È un sogno che si avvera, dare una configurazione all'area sud della Toscana di un unico distretto che mette insieme tutta la provincia di Grosseto e il sud delle province di Livorno, di Siena e di Arezzo. Che mette insieme più imprenditori perché ci sono 17 progetti reali per un valore di poco inferiore ai 40 milioni di euro. Il distretto rurale Toscana del Sud ha raccolto i progetti nel territorio e ottenuto il supporto e il contributo della regione. Ora potrà concorrere per l'ottenimento dei contributi per lo sviluppo di tutta l'area attraverso il bando del Ministero. Un distretto che è realtà, un distretto che sta crescendo. Con l'investimento della regione di oggi lo stiamo dimostrando. Le istituzioni ci hanno creduto e a questo punto ci devono credere gli imprenditori. Il progetto del distretto è sicuramente fare aggregazione, fare soprattutto trasformazione e attraverso la trasformazione agroindustriale creare anche i posti di lavoro che soprattutto nel nostro territorio ce ne è tanto bisogno.